Oggi è mercoledì 2 ottobre 2019. Nessun giorno è un giorno qualunque, ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 2 ottobre 1935. Le truppe italiane danno inizio alla guerra di Etiopia, una gigantesca operazione militare con circa 800.000 soldati e finanziaria, nella quale ufficialmente sarebbero stati impegnati 12 miliardi e 111 milioni di lire, cifra che studi del 1969 sui dati della Ragionaria Generale dello Stato portano invece a 75,3 miliardi, tenendo conto degli oneri finanziari legati all'indebitamento, alla difficoltà di avere prestiti stranieri, ai costi dell'addestramento dei militari, a quelli per l'aumento della sicurezza nazionale e alla ristrettezza delle risorse che imponevano enormi importazioni. Il grande impegno è dovuto al carattere fortemente simbolico sul piano del prestigio internazionale attribuito al conflitto dal regime fascista. Per raggiungere lo scopo, il duce Benito Mussolini sollecita l'utilizzo di ogni arma, comprese le armi chimiche, e accetta violenze contro civili e donne, determinando la riprovazione della comunità internazionale e l'imposizione di sanzioni da parte della Società delle Nazioni, poi ritirate nel luglio 1936. Il massiccio impegno militare determina ingenti perdite di vite umane. Tra vittime militari e civili, le perdite etiopi si stimano in 275.000 persone. Sul fronte italiano, la maggior parte delle perdite sono dovute non agli eventi bellici, ma alle conseguenze di incidenti e malattie. Su un totale di 4.350 morti, solo 2.000 sono i caduti in combattimento, gli altri per malattia. Vanno poi aggiunti circa 9.000 feriti e 18.200 rimpatriati per malattia. Solo 8 aerei vengono abbattuti dagli etiopici. Ben 65 vanno perduti a causa di incidenti o avarie. Come previsto da alcuni generali italiani, che avevano espresso dubbi sull'operazione, l'ingresso dell'Italia nella Seconda Guerra Mondiale contro il Regno Unito, che detiene il controllo di Gibraltar e Canale di Suez, determina la reazione delle truppe di Londra, che unendosi alla resistenza etiopica, pongono fine all'Africa orientale italiana nel novembre 1941. 40.000, tra militari e civili italiani, vengono internati in campi di prigionia. Solo l'inizio della guerra fredda con l'Unione Sovietica e l'esigenza di non creare danni all'Italia, dove dopo la guerra sono presenti i più forti partiti di sinistra dell'Europa, porta gli Stati Uniti, il Regno Unito e gli altri alleati occidentali a bloccare le richieste dell'Etiopia di istituire un tribunale internazionale per i crimini di guerra italiani in Africa, come è fatto con la Germania con il processo di Norimberga. Ogni giorno può lasciare un segno indelebile, viverlo con lo spirito giusto per renderlo tale. Secondo uno studio dell'Iowa State University, 12 minuti al giorno per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini, sollevano il morale e rendono più felici. Rivolgere un pensiero a chi abbiamo nel cuore o a chi compie gli anni inviandogli questo minuto di racconto può essere un'occasione per cominciare bene i nostri 12 minuti di oggi. Buona giornata!